Allora ragazzi buongiorno e bentornati sul canale del coach, oggi andiamo a vedere gli esercizi brucia grassi efficaci per perdere peso velocemente Allora un po' il titolo era provocatorio perché sono in tanti che dopo le feste mi chiedono quali sono gli esercizi per andare a bruciare grassi velocemente Allora di base potrei dirvi non esistono esercizi brucia grassi per bruciare peso o grassi peso velocemente Però in realtà io nei miei video voglio darvi sempre dei contenuti pratici da provare a mettere in pratica per riuscire a centrare dei risultati sul vostro fisico Allora secondo me se volete perdere grasso velocemente dovete in primis cercare di avere una vita attiva Quindi cercate di fare almeno 15-20 mila passi al giorno, questo di base, questo di base proprio anche se andate a lavorare parcheggiate lontani, camminate, fate passi Questo è la base del vostro movimento e poi ovviamente dovete andare ad allenarvi Allenarvi qua si apre un mondo intero però io direi che almeno 2-3 volte dobbiamo andare ad allenare i nostri muscoli Quindi dovete cercare di fare qualche attività di potenziamento sui vostri muscoli Che può essere a corpo libero col functional training, con il TRX, con il kettlebell, che può essere andare in palestra, può essere allenarvi in casa con qualche piccolo attrezzo che avete Però dovete dedicare almeno quei 30-40 minuti ad allenare, a contrarre con dei carichi i vostri muscoli Questo è essenziale Se non sapete come fare ovviamente io ho preparato qua sul Carane tantissimo materiale gratuito per provare ad allenarvi nelle varie situazioni E poi in terza battuta fate anche un buon lavoro aerobico, cardio Questo è utile per avere un efficiente sistema che ci permetta di andare a ottimizzare proprio lo sfruttamento dei grassi a scopo energetico Quindi anche qua 1-2 volte cardio alla settimana Quindi come capite dovete muovere Se stavate cercando la ricettina che è facile per andare a perdere grasso, non esiste Per perdere grasso dovete farvi un bel mazzo così Quindi 15-20.000 passi al giorno è la base 2-3 allenamenti muscolari in aggiunta e direi anche 1-2-3 allenamenti aerobici Questo è fondamentale se volete centrare grandi risultati sui vostri muscoli, sul vostro corpo, se volete buttare via il grasso in eccesso Buon qua chiudo il video, quindi chi vuol capire ha capito, chi vuole la ricettina magica cercate pure su qualche altro canale Ci troverete qualche altro video dove vi rifilano magari nell'integratore che non funzionerà su di voi ma funzionerà su di loro perché andrete ad arricchierli Quindi noi integratori, sudore, sacrifici, determinazione, costanza per centrare grandi grandi risultati Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai vieni sul mio sito www.umbertomiletto.com Ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare Dai corri subito! Dai corri subito!